Siamo con Martina, una giovane cuoca, siamo a Pizzo e parliamo di un piatto tipico di Pizzo. Allora, la stroncatura alla calabrese, anche se la stroncatura non è proprio un prodotto pizzitano, ma del territorio in generale, della piana di Gioia Tauro. Questa è la stroncatura? La stroncatura è una pasta di grano duro, mischiato con tante farine, con tante farine diverse, diciamo. Quindi è una pasta che si usava una volta? Siamo una volta, che oggi, magari prima era un piatto povero, adesso è un piatto costoso, diciamo. Ecco, come lo andiamo a preparare questo piatto? Allora, con acciughe, induia di spilinga del territorio, aglio, prezzemolo, olio e... Quali ingredienti usiamo? Allora, acciughe, induia di spilinga, prezzemolo, aglio, olio e alla fine pan grattato. Per una volta era il pane dei poveri, adesso tostato, è un'eccellenza, diciamo. Ecco, quindi è veramente un piatto povero questo? Un piatto povero che adesso si è rinomato, diciamo, un piatto ben voluto da tutti. Quindi quando voi lo presentate sia alle persone del luogo che ai turisti è molto accettato? Molto accettato, è stato il piatto più venduto, sì. Un'idea di mia mamma quando ha creato questo ristorante Pizzeria Il Porticato e quindi noi ci mettiamo passione, qualità e tanto amore. Naturalmente siamo a Pizzo, città di mare, anche altre piatte a base di pesce? A base di pesce, sì. Un misto caldo-freddo, una tipica zuppa che non la trovi in altri posti, ma ci siamo inventati noi e l'abbiamo chiamata zuppa alla Barona. La Barona perché discendiamo da un titolo di Baroni, cioè mio nonno, tra cui mio padre e adesso noi.